Bene, allora qui siete nella sede dell'ordine ma anche del collegio, della fondazione, del centro studi, insomma abbiamo tutta una serie di organismi che vivono della vita degli ingegneri, della cultura e della formazione degli ingegneri e appunto in tale ambito un settore che stiamo cercando di sviluppare il più possibile riguarda i giovani ingegneri ma anche quelli che sono negli ultimi anni del corso di studi di ingegneria e quindi intendiamo rivolgersi anche a loro. L'ordine in particolare ha costituito la commissione giovani che appunto ha il compito di raccogliere le esigenze che hanno questi nostri giovani colleghi per cercare di dare qualche risposta, naturalmente i gracoli non le fa nessuno però tra i non far niente e far tutto c'è tutta una vasta gamba all'interno della quale cerchiamo di collocarci con molta fatica e con molta umiltà e cercando la collaborazione anche dei giovani colleghi. In quest'ambito l'ordine ha sposato, colto con molta gioia a dire l'iniziativa del collegio che è quella di premiare delle tesi di laurea di giovani ingegneri e quindi ecco l'incontro qui di oggi ecco che io vi ringrazio di essere venuti e vi saluto